Amo Marsiglia, eh? È bello, ma preferisco essere presidente della Repubblica. Ah, beh... Mi scusi tanto, ma... Delira? Reagan c'è riuscito, perché io non posso? Reagan, come no? Ma non siamo in America, qui. La Francia è come l'America, siamo solo dieci anni indietro. Se ci opponiamo ai socialisti, ci mettono un attimo a polverizzarci. Sono d'accordo con Bernard. Con l'uomo giusto li possiamo assorbire. No, aspettate. Non vi sto parlando di strategia politica. Vi parlo di una rivoluzione. È la storia di un ragazzo di periferia di Oberbie, con un padre che monta caldaie e che è diventato l'uomo più amato dai francesi.